La sonda logica è uno strumento che ci permette di identificare in maniera molto semplice eventuali guasti sui circuiti integrati. Con i led verde e rosso vedremo i livelli logici alto e basso per le famiglie CMOS e TTL. Schema molto semplice basato su comparatori e flip flop forniamo il circuito stampato ai componenti per chi fosse interessato lascio l'indirizzo di mail in descrizione. Fornisco in ingresso alla sonda un segnale variabile in tensione parto da 0 volt livello logico basso led verde. Ora alziamo gradualmente la tensione e vediamo dove interviene il livello alto. Qua siamo circa 1 volt eccoci dovrebbe intervenire a due terzi della tensione di alimentazione che in questo caso è 5 volt quindi ci siamo vicini 3 1 3 2 eccolo circa 3 25 se è acceso il livello alto. Resetto e giustamente è rimasto.